Depurare le acque utilizzando le piante e al contempo riequilibrare l'ecosistema infestato dai topi. E' il duplice obiettivo centrato dal fitodepuratore di Calimera, Martignano e Melendugno nell'Eccese, l'unico del genere in Europa, premiato nel 2011 come buona pratica nell'ambito del Premio Nazionale Pianeta Acqua. Il governatore Vendola ha illustrato i risultati del progetto finanziato dalla Regione Puglia e realizzato in collaborazione con l'Acquedotto Pugliese, per legambiente un utile strumento didattico per la formazione dei bambini. Il sistema completamente naturale è in grado di adattarsi meglio ai picchi di depurazione, tanto da riuscire a soddisfare un fabbisogno dalle 22.000 alle 55.000 utenze. Dopo un iniziale conflitto col comune di Melendugno sull'installazione, la Regione è pronta a replicare il modello anche al caso TAP, il gasdotto previsto proprio nella stessa area del fitodepuratore. Ripristinare uno scorcio di paesaggio che è splendido e importante sia per la flora che per la fauna è molto importante, tanto più se in quel paesaggio si determina quel ciclo della depurazione, che per noi pugliesi è sempre un ciclo particolarmente complesso, perché noi non abbiamo tanti fiumi, le altre regioni depurano quasi in gran parte con l'autodepurazione dei fiumi, noi abbiamo problemi più complessi.